Allora, ciao a tutti, intanto ringrazio quel simpaticone di corso di spagnolo con tette per avermi taggato in questa challenge. Minasan, konnichi ma, serena, deschio, high pocket challenge, yari masho! Come molti prima di me hanno fatto, vi ricordo che questa non è fatta semplicemente per fare, ma è bensì una campagna che invita tutti voi a rifare la challenge e a donare alla Aisla o associazione che combatte, comunque che aiuta nella ricerca per la SLA. Quindi mi raccomando, come io ho fatto, donate anche voi e se vi va rifate anche la Aisla challenge. Quindi, andiamo. Siamo pronti? Ma si viene? Sì, sì! Ok, allora taggo, taggo Shanti. CXX, Yuriko Tiger, Marco Tonio, Andrea Tecologicamente Gym, Viva la Alpe, Zero Dix e Blagon. Cianee! 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 Grazie a tutti.